Tam Cagliari con un lavoro di Claudio Lorenzoni, direttore del Museo a Cielo Aperto Camo, che è un lavoro per me molto toccante perché questa volta il protagonista del suo alter ego artistico, ossia Jimmy Rivoltella, sono io da bambino. Quindi mi sento un po' Jimmy, Jimmy Rivoltella. Ci sono io con il costumetto rosso da bambino, il che forse faceva già intuire o presumere quello che sarei diventato dal punto di vista politico e poetico. Ci sono delle scritte, quella A indica poi una didascalia che recita artista lavoro di merda, artista bullshit job, Jimmy Rivoltella.